Preghiera della Sera Al termine di questa giornata vorrei, Signore, alzare le mani verso di Te, verso la Tua Santa dimora, perché Tu hai visitato il Tuo popolo. Tu hai ascoltato le nostre preghiere, anche quelle che non vediamo ancora esaudite. Non ci siamo dati da fare in vano perché il Tuo Spirito opera fino alla fine del mondo. Tu hai reso fecondi i nostri poveri sforzi. Benedetto sei Tu, Signore, Padre Onnipotente. Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.